Speriamo che il programma sia stato il vostro avvenimento. Noi vi diamo appunto l'enso a 2 di sera. Prima di vantarvi, riposiamo. Non dimenticate se varia mezzogiorno l'occasione dell'affetto della mamma festeggiata insieme alle amici di Festival Italiano. I giorni globali sui seduzioni. Non mancate all'appuntamento. Intanto noi vi dobbiamo salutare. Grazie per la propria attenzione e da parte di tutta la gruppa che ora qui ha tutte le mamme. Buon appetito alle mamme e buon appetito. Grazie a tutti.